su un poggio dei Colli Ugani spicca Villa dei Vescovi è una raffinata villa di inizio cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata da un meraviglioso paesaggio incantevole che crea un'atmosfera di fusione tra natura arte e architettura tra realtà e illusione Villa dei Vescovi è solo una delle location che ospita rete eventi una rassegna della provincia di Padova che coinvolge 65 comuni 400 eventi nelle piazze e nelle sale del territorio uno straordinario teatro diffuso di iniziative culturali di spettacoli di concerti che vogliono rappresentare la bellezza della nostra comunità la bellezza della nostra provincia la bellezza della nostra terra è un'edizione straordinaria frutto della collaborazione tra la provincia di Padova la regione del Veneto e la fondazione cassa di risparmio di Padova e Rovigo questo luogo magico e straordinario vuole essere il suggello per questa rassegna alla quale vi invito davvero a partecipare Grazie a tutti i nostri spettatori di Padova e Rovigo Grazie a tutti i nostri spettatori di Padova e Rovigo Grazie a tutti i nostri spettatori di Padova e Rovigo